Ed ecco a voi l'undicesimo pozzo eterno che faremo in questo videogioco Keo the Kangaroo. Dobbiamo sconfiggere tutti i nemici, questa volta dobbiamo eliminare i caproni. Sono tutti e quindici, bisogna abbattere questi nemici di ora. Però devono farsi vedere se li voglio eliminare. Vanno sconfitti tutti e quindici. Qui c'è da raccogliere il fuoco. Ma facciamo attenzione anche a queste piattaforme, quando si staccano. Non c'è da eliminare solo i caproni, ma c'è da sconfiggere anche i piragna. Qui mi tocca sempre cadere tutte le volte, cadere di sotto tutte le volte per far apparire i nemici perché sennò non arrivano. Abbiamo finito, vi devo salutare, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Arrivederci a tutti, ciao! Ciao!